cari amici oggi voglio parlarvi di diversi elementi e di strumenti di inchiostri anche di carta insomma sarà una discussione abbastanza animata allora innanzitutto il tema qual è il tema è questa penna qua questa stilografica ne ho già parlato ci sono già altri due miei due o tre video dove parlo di questa penna insomma facilmente riconoscibile o quasi si tratta di una pilot 742 dotata di pennino in oro falcon che però è nella misura più piccola su questa penna come ho detto la sorella maggiore 743 quasi nessun problema ottime performance invece questa penna fin dall'inizio ma insomma chi ce l'ha lo sa dà sempre un po di problemi per la conduzione dell'inchiostro cioè ci sono delle false partenze degli ammanchi di diciamo di inchiostro quando ho magari schiacciato un po troppo perché al penino flessivo insomma è sempre un problema a farla andare bene però ho notato una roba già me ne racconto dopo un anno di uso la penna era notevolmente migliorata quasi sempre stata caricata con inchiostri miei ferrogallici o a base tannica quindi sostanzialmente abbastanza acida che in qualche maniera hanno mordenzato la condotta seppur in abs perché la mordenzatura è un po più diciamo facile che avvenga su sulle condottine banite ma secondo me anche alla lunga anche quelle in abs in plastica diciamo subiscono insomma questo trattamento la superficie non è così più liscia viene scabrosa insomma l'andamento dell'inchiostro nella condotta cambia un po ma per fortuna in meglio questa penna nella dimostrazione adesso ve lo faccio vedere dove praticamente perfetta tenete conto che ho diciamo inficiato un po le sue caratteristiche perché questa penna se vi ricordate ho fatto trattare dal mio amico Arminio Murrano il pennino è stato sottigliato moltissimo è quasi un pennino in tinzione e quindi questo non gioca molto a favore di una scrittura rapida ed efficiente ma anche quello cioè col tempo anche la punta di iridio si è anche un po più così si è resa più scivolosa più più pattinante sul foglio e adesso vi faccio vedere poi questo è un automatic pen ma solo per mostrarvi questo splendido inchiostro vedete qua già una superficie verde questo un inchiostro verde meraviglioso che però parte lo vedete con un color minaccia e a base di succo di spin cervino che è una pianta meravigliosa da cui in antichità nel medioevo traevano il giallo sulle bacche immature invece in questo caso sono bacche che ho preso grazie al mio amico Ivano Zigiotti perché sono piante molto rare quelle dello spin cervino almeno qua in Piemonte sono piuttosto rare ma anche non solo in Piemonte fortunatamente dalle sue parti sui Colli Euganei proprio la regione ha fatto delle ripiantumazioni perché lo spin cervino è un arbusto che frange bene il vento ha delle belle radici che tengono il terreno quindi il presidente Zaia per loro fortuna ha inrobustito i pendi delle colline venete insomma dalle parti di Vicenza con queste piante che sono veramente eccezionali per l'ottenimento di questi verdi adesso questo è un verde proprio è proprio naturale al cento per cento qua l'ho caricato con lo spin certano che non è proprio quest'inchiostro ma è un mix fra spin cervino e corteccia di ipocastano che è anche anche esso un bellissimo verde naturale ma adesso bando alle ciance andiamo nel vivo della cosa vi faccio vedere le straordinarietà di questi elementi di queste penne allora ok eccoci qua allora vediamo innanzitutto subito questo inchiostro che lo ritengo eccezionale allora guardate magari andiamo più vicini così ci rendiamo conto meglio della qualità allora guardate io faccio una traccia e guardate poi cosa accade nel giro di pochi minuti ok a questa mi sono dimenticato dire una cosa importante è una carta lo tanto andate poi a rivedere guardate che meraviglioso verde sta venendo fuori ok siamo partiti sempre da una cosa che vi ripeto è praticamente viola e poi guardate che meraviglioso colore siamo andate a rivedere poi le immagini iniziali del video questa è una fabriano traccia l'ho presa sulla piattaforma calligraphy store perché ultimamente la schizza strappa mi dava un po' di problemi secondo me un po' peggiorata questa a qualche grammi in più siamo 60 grammi a metro quadro io la trovo decisamente meglio allora spin certano perché appunto ho guardate è semplicemente meraviglioso guardate è un verde veramente bellissimo poi su carte queste su carte un po' acide e quindi e quindi insomma non ha una resa magnifica però guardate la base di partenza qual è ed è una cosa veramente stupenda secondo me questo passaggio a questo verde è così intenso molto bello invece qua non c'è questo passaggio da quel viola al verde perché c'è la corteccia di ipocastano che impedisce questa cosa viene subito il verde verde quasi militare oliva ok e andiamo a vedere anche qua se vi ricordate qua ho la possibilità vedete di avere un fine finissimo e uno spesso evidente quindi un contrasto intervole però la cosa bellissima è che questa vedete lui aveva assottigliato qua aveva tagliato un po' ecco qua aveva tagliato un po' le ali vedete che anche io ho detto mannaggia anche i maestri giapponesi sono a rompere le rene i pennini vabbè lasciamo perdere ormai il mondo è globalizzato se uno fa una cavolata ci vanno dietro tutti compreso i giapponesi ma andiamo a vedere la cosa che prima metteva in difficoltà questa penna allora assolutamente se se vado con calligrafie con scritture scusate grafie ok non c'è nessun problema adesso ho avuto una falsa partenza qua ma perché il pennino era rimasto inattivo un attimo allora ma andiamo nella cosa allora inutile dire che i corsivi sono il suo banco di prova elettivo di questa penna perché è un fine eccezionale ma già qua prima mi dava sempre dei problemi ogni tanto lo vedete sto andando molto veloce per fare un cursino inglese non andrebbe tracciato così non dovrei parlare durante la scrittura non aiuta ma insomma qualcosa devo pur dirvi ok andiamo a mettere in difficoltà più la penna cioè con richiami improvvisi di inchiosto allora quindi quella prova quindi qua devo veramente schiacciare anche la palla cappa che mette sempre molto in difficoltà le penne vedete è venuta bene qualche rara volta può entrare in difficoltà ma molto raramente e qua i richiami sono un po' più tosti perché veramente schiaccio quindi deve arrivare l'inchiostro nel frattempo guardate sta asciugando è sempre più bello il verde anche questo è un richiamo improvviso molto lungo metterebbe in difficoltà un sacco di penne ma lo fa in assoluta scioltezza guardate che bellissimo segno ottimi pennini è bravo è bravo Erminio che mi ha dato la possibilità di avere questa penna così performante niente la prova sostanzialmente riapriamo il campo la prova sostanzialmente è questa abbiamo visto questo splendido inchiostro stupendo anche da intenzione ma anche con adeguati trattamenti anche per diciamo un uso stilografico va assolutamente bene magnifico il problema è solo avere avere la materia prima che purtroppo non è così facile e anche perché i verdi mi piacciono molto cioè odio quei verdi molto molto sparati questo è un colore naturale assolutamente stupendo secondo me veniva appunto usato nelle miniature e diciamo la traslazione nell'inchiostro è una mia piccola divagazione però pare che vada bene non ho avuto comunque l'alloggiamento di muffe nel calamaio perché comunque va diciamo trattato con una parte di allume perché senza l'allume non avrei questa colorazione l'allume inacidisce un po' il composto quindi sostanzialmente non è molto acido ma è debolmente acido e quindi diciamo che sostanzialmente si protegge come inchiostro niente la prova finisce qua ma è proprio per dimostrare a parte le notevoli qualità di questo bellissimo inchiostro di come effettivamente l'uso continuo di alcuni inchiostri che apparentemente sono definiti aggressivi ma su queste pene non fanno assolutamente nulla perché la condotta non patisce nulla la resina tanto meno e anche il pennino in oro ma anche i pennini in acciaio non gli farebbe assolutamente nulla però il fatto che la condotta venga un po' così spinta con questi inchiostri alla fine quella piccola opera però continua perché è stata sempre caricata usata questa penna e quindi la penna un po' si è abituata al mio modo di scrivere sicuramente perché questo accade quasi su tutte le penne specialmente quelle che hanno le condotte nebanite ripeto ma anche un po' in queste e poi l'uso prolungato insomma ha compiuto questo piccolo miracolo avete visto che assolutamente non mi è mai mancato questa è la condizione peggiore di uso perché qua è costante e progressivo diciamo il lavoro che mi deve fare la condotta qua il richiamo è brutale ok cioè la condotta va bene cioè c'è tutto il sistema fisico della condotta che funziona bene oppure il flusso si blocca e si ferma in attesa che arrivi di nuovo l'inchiostro invece assolutamente va bene la sto usando tantissimo con questo inchiostro ma questa pena la sto usando molto anche perché è diventato proprio bello scriverci perché viaggia veramente molto bene e perché è bello farci grafia corrente quotidiana ma anche calligrafia e con questa considerazione vi saluto e vi invito ai prossimi video ciao a tutti